Il sistema prevedeva subappalti a cooperative consociate che, una volta accumulato un debito di imposta significativo, cessava l'attività. I lavori venivano trasferiti a un'altra cooperativa e il meccanismo ripartiva. In questo modo un consorzio nel settore del facchinaggio e dei trasporti era arrivato ad accumulare tra il 2002 e il 2018 un debito di circa 23 milioni di euro di IVA non versata. È quanto ha scoperto un'indagine della Guardia di Finanza di Firenze che ha sequestrato denaro e beni per circa 13 milioni ai 14 rappresentanti del consorzio di cooperative, ritenute responsabili anche di un giro di false fatture per circa 60 milioni di euro. Dalle indagini è emerso che il consorzio, una volta ottenuti i contratti d'appalto, li affidava a cooperative di lavoratori consorziate, ciò consentendo alle cooperative di emettere delle fatture per le prestazioni rese.